La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Non è possibile che questa città non ti fanno in mente niente a raccontare. Ed era bellissima. È un gigante! Insomma, schizzi, a dire qualcosa rischi? A dire una cosa raccontata? Sì! È di mail! Ad esempio. Sì! Sì! Ebbino? Ciao! Alla fine!